Ciao, sono Mike Zillo di Amica Borsa e voglio farti una domanda. Hai mai desiderato un browser che fosse più veloce e un pochino più sicuro, un pochino più anonimo rispetto a quelli tradizionali che siamo abituati? Bene, ho una buona notizia per te, perché la risposta ce l'hai proprio sotto gli occhi. Sto parlando di Brave Browser. Brave Browser è stato lanciato un anno fa. Quando l'ho provato, io personalmente, un anno fa, alcune funzionalità non erano ancora state implementate proprio bene. Ma devo dirti che da due mesi a questa parte, tempo in cui lo sto regolarmente utilizzando, avendolo sostituito completamente a Google Chrome, browser che utilizzavo regolarmente prima di Brave, mi sto trovando veramente molto bene. Ti faccio vedere subito i miei risultati. Intanto, il tempo stimato che ho risparmiato è di 37 minuti rispetto a un altro browser tradizionale. 5.300 tracciatori bloccati e più di 38.000 annunci pubblicitari bloccati. Focalizziamoci sui 37 minuti. Potrebbero sembrare pochi i 37 minuti in due mesi, però posso garantirti che se dividi questi 37 minuti a forza di 2 o 3 secondi nel caricamento di ogni pagina, posso garantirti che la sensazione che percepirai durante la tua navigazione sarà di una fluidità molto maggiore. Ti sentirai un pochino meno stressato per il fatto che a volte le pagine caricano un po' troppo rispetto al previsto. Una prova di questo possiamo trovarla proprio qua sul sito di Brave. Guardiamo questo video in cui ci sono dei piccoli test, insomma, fatti a parità di condizioni fra Brave, Chrome e Mozilla Firefox. Il primo sito che viene analizzato è la CNN, cnn.com. Vedi che Brave ci mette all'incirca 2 secondi e mezzo per caricarsi, mentre Chrome ci mette poco meno di 7 secondi, Firefox poco meno di 8 secondi. Stessi casi vengono visualizzati anche con CBS News e un altro esempio che troverai sempre in questo stesso video. Ti invito a guardarlo tranquillamente. Quindi perché ti consiglio Brave? L'altra cosa per cui mi sento di consigliarti Brave è la possibilità di essere pagato per il tuo traffico. Esattamente. Tu per il fatto di generare traffico su Brave verrai pagato per gli annunci pubblicitari che comunque in certi siti sarai costretto a visualizzare. Questi token verrai pagato in BAT token all'interno di un wallet che è già integrato all'interno del tuo browser una volta che andrai ad installarlo dal link che trovi qua sotto al video. Quindi quello che potrai fare è ricevere questi token una volta al mese ti verranno accreditati. Questi token hanno una scadenza di 90 giorni. Al momento non è ancora possibile per te prelevarli, però puoi fare un'altra cosa molto molto intelligente. Questi token puoi donarli a dei publisher verificati. Amica Borsa ha ad esempio guadagnato la partnership con Brave, è rientrata all'interno dei publisher verificati da Brave proprio nei giorni scorsi a metà marzo. Quindi quello che puoi fare ad esempio è se ti piacciono i contenuti di Amica Borsa puoi sostenere Amica Borsa tramite l'invio dei token ad Amica Borsa. E nel prossimo video ti farò proprio vedere come attivare il procedimento delle rewards, cioè il procedimento dei premi che riceverai e che potrai dare appunto ai publisher verificati da te preferiti. E in seconda battuta potrai proprio donarli quindi ai tuoi publisher preferiti. Quindi per il momento io ti saluto. Il link per scaricare Brave lo trovi qua sotto. Quindi io ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto su Brave. Ciao! Ciao!